Inaugurata questa mattina la nuova casa dell'acqua di Roccadaspide, ubicata nel Parco della Concordia, il taglio del nastro è avvenuto nel corso di una sobria cerimonia, la presenza del sindaco Gabriele Iuliano e del vice sindaco Girolamo Auricchio. La casa dell'acqua è stata installata allo scopo di incentivare il consumo di acqua pubblica e ridurre l'utilizzo di bottiglie di plastica che vengono inevitabilmente disperse nell'ambiente. L'obiettivo dell'amministrazione è anche quello di recuperare l'antica funzione della fontana pubblica in un luogo simbolico e centrale della città. Tra l'altro la casa dell'acqua è vicina al parco giochi, così anche i ragazzi potranno soffruire abituandosi all'utilizzo dell'acqua pubblica e ad evitare l'uso delle bottiglie di plastica. L'acqua erogata da questo tipo di impianto ha un processo di microfiltrazione di 5 micron con due passaggi con una lampada UV che elimina virus e batteri dell'acqua rendendo la depurata pari a quella di una sorgente di alta montagna. La macchina installata funziona con monete da 5, 10, 20, 50 centesimi, 1 e 2 euro e non dal resto. È possibile utilizzare anche la card che si ricarica dalla slot presente sul pannello erogatore inserendo la scheda e le monete desiderate. È possibile controllare il credito del display. La card ha un costo di 5 euro ed è omaggiata da un euro di ricarica. Le card si possono acquistare direttamente dalla BR Group, l'azienda che ha curato l'installazione dell'impianto. Con le card BR Group è possibile prelevare acqua in vari comuni del Salernitano, da Vietri sul mare ad Agropoli, da Trentinara a Stiocilento, da Castelcivita a Felitto. Con questa iniziativa, che ha consentito di ripristinare l'impianto che già da anni era stato installato nel parco pubblico, il comune di Roccadaspide è aderito al progetto sorgente in città acqua a chilometro zero, finalizzato alla riduzione della plastica, fonte principale di inquinamento del nostro pianeta. Inoltre, con la riduzione della plastica, il comune entra a far parte del progetto europeo Plastic Free, finalizzato a ridurre i rifiuti.